School Movie è una bellissima iniziativa, 6.000 bambini coinvolti, 100 istituti scolastici, 42 comuni, un percorso che dura diversi mesi, dalla scrittura della storia, poi ai protagonisti bambini, che poi in realtà sono i protagonisti del cortometraggio, le competizioni nelle tappe di School Movie e poi la grandissima manifestazione a Giffoni, nel location che non poteva essere che quella del Giffoni Film Festival. Quindi giocando in allegria, con grande competizione, però i grandi valori della libertà, della pace, della solidarietà. Quindi si riesce così con grande allegria a dare un grande valore educativo a questa manifestazione che ormai ha superato i convini provinciali ed è in tutta la regione campana. Quindi un crescendo che sicuramente, io credo, per il futuro emergerà anche oltre la regione campana.